Scatta la seconda fase degli studi clinici sul secondo vaccino russo contro il coronavirus. Mosca aveva impostato due ricerche parallele, una all'Istituto Nazionale di Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleya di Mosca, l'altro al laboratorio Vector vicino Novosibirsk. I volontari che si sono proposti per la sperimentazione sono in buona salute, come confermato a Novosibirsk dalla responsabile dell'ufficio federale Anna Popova. Tutti i volontari che sono stati accuratamente selezionati stanno bene. Non sono state registrate reazioni al vaccino, non ci sono arrossamenti nelle zone in cui sono state praticate le iniezioni, non ci sono casi di febbre. L'11 agosto la Russia è diventata il primo paese al mondo a registrare un vaccino contro il coronavirus che è stato chiamato Sputnik V, sul quale gli scienziati occidentali hanno molti dubbi. La sperimentazione parallela del centro Vector ha iniziato i test sui volontari a fine luglio. Il lancio della produzione del secondo vaccino è previsto a novembre.